Padre Campana! Allegro, ho portato i sigari! Oh, finalmente! Marina, San Rolando ti deve molto. Padre Orso mi ha raccontato tutto. Sei come una sorella per lui. Sì, grazie padre. Sei una brava ragazza, Marina. Fratelli carissimi, andiamo a ringraziare il Signore che è stato così misericordioso con noi. Padre Zach. Sì. Sei davvero un frate. Che fai, attento. Un giorno lo saprai. Bob, ho qualcosa da dirti. Anch'io devo dirti qualcosa, purtroppo. Miguel. Finalmente avrò un posto dove portare un fiore e dire una preghiera. Ti ringrazio, Bob. Non ho potuto fare niente, mi dispiace. Ora devo lasciarti. Quando potrò rivederti? Maria, nei lunghi anni trascorsi in quella cella. Avevo perso la speranza di riabbracciarti e invece eccoci qui. Dove te ne andrai? In giro per il mondo. Sono stato vincioso in quel buco per troppo tempo. Ho bisogno di vivere all'aria aperta. Ci scriverai qualche volta, almeno. Scriverti, Maria. Dovresti saperlo. Non mi è mai piaciuto scrivere. Puoi sempre cominciare. Un po' di te Un po' di te Un po' di te Grazie a tutti 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 Grazie a tutti